voglia di depurarsi il miglior depurativo naturale l'acqua ma quanta acqua bere durante la giornata non esiste una risposta uguale per tutti dipende da quanta attività fisica facciamo durante la giornata e dalla temperatura esterna chi vive una vita sedentaria dovrebbe bere 9 bicchieri di acqua al giorno chi segue un'attività fisica moderata o di media intensità dovrebbe bere da 10 a 11 bicchieri d'acqua chi svolge un'attività fisica intensa dovrebbe bere quasi 14 bicchieri d'acqua al giorno quando fa caldo viene spontaneo bere di più ma non sempre ecco un trucco per assicurarsi la giusta dose di acqua un bicchiere al mattino prima di colazione due bicchieri a pranzo due bicchieri a cena e siamo a 5 3 bicchieri nell'arco della mattinata e 3 bicchieri durante il pomeriggio visto siamo già a quota 11 la giusta media siccome lo stimolo della sete poi diminuisce con l'età meglio abituarsi da subito a bere con metodo senza aspettare di avere sete così si rimane idratati in modo costante se ami la salute naturale condividi questo video a presto a presto